Benvenuti su Lady Gossip, il canale dove il gossip e i segreti delle celebrità sono la nostra passione. Oggi vi presentiamo contenuti che molti di voi stavano aspettando con trepidazione. Ecco a voi alcune immagini mozzafiato di Antonella e Edoardo, le star della casa più spiata d'Italia. Li avete amati, li avete seguiti ogni minuto e ogni secondo, avete riso e pianto con loro. Li avete criticati quando era il momento, e li avete amati per il resto del tempo. Ma ora, ecco la svolta. Una storia d'amore che sembrava insormontabile è arrivata al suo punto di rottura, dopo soli sette mesi. Rimarete senza parole quando scoprirete cosa è successo. I fan sono rimasti sbalorditi di fronte a questa inaspettata separazione. Hanno fatto di tutto per farli tornare insieme, persino organizzato processioni dedicate a loro. Ma la realtà è più complessa di quanto sembri. Nonostante la separazione, entrambi non hanno cancellato le loro foto insieme sui social, alimentando il mistero. Cosa sta succedendo tra Antonella e Edoardo? Siamo qui per scavare nei segreti più nascosti e farvi scoprire la verità, sarà l'influenza dei social media a mettere a dura prova questa storia d'amore? Nonostante Edoardo sapesse cosa comportasse avere una influencer al suo fianco, sembra che qualcosa sia andato storto. Cosa è successo esattamente? La verità è nascosta, e i fan sono desiderosi di scoprire tutto. Sono tanti i dubbi, le speculazioni, ma una cosa è certa, il destino di Antonella e Edoardo è nelle loro mani. Il tempo svelerà la realtà, ma fino ad allora, noi continueremo a sognare e a sperare che l'amore possa ancora trionfare. Continuate a seguirci per tutte le ultime notizie e scoop sulle celebrità più affascinanti del momento.